Per rendere l'adegenza dei piccoli pazienti del Muscati più gioiosa, questa mattina la rappresentanza dei militari della Compagnia dei Carabinieri di Avellino, con l'unità cinofila del nucleo di Sarno, ha fatto visita al reparto pediatria dell'ospedale. Il cane Pirat ha tenuto compagnia ai bambini con giochi e dimostrazioni pratiche, un'iniziativa che a scopo terapeutico ha detto il luogotenente Bruno Ronca, comandante della stazione di Avellino. Lo stesso cane Pirat, che oltre a dare soddisfazione nell'ambito nostro operativo, si dedica anche con passione verso i bambini. Noi infatti vediamo che i bambini manifestano una grande soddisfazione nel vedere il cane, che con giochetti dati dall'istruttore riesce a fare quelle cose che i bambini vogliono vedere. È un modo per rendere meno pesante la degenza dei piccoli, ha detto il primario di pediatria Antonio Vitale. Gli aspetti della pet therapy li stiamo rivalutando qui con l'interesse che hanno i bambini per i cani, ma d'altronde noi cerchiamo di farli interessare ai libri, ai cani, ai giochi, alla partecipazione, perché lo sapete, noi pensiamo sempre che il nostro reparto è un reparto aperto, fa parte della città e la città ci deve sentire vicini, per cui deve venire con grossa fiducia nei nostri confronti, perché la loro fiducia ci aiuta a lavorare molto molto meglio.